o quello è un giocatore un giocatore laggante io quei giocatori lagganti non ci volevo niente a che fa era pure armato decentemente ma a me viene sempre gli spasmi quando vedo un giocatore francese ce l'ha il colpo in canna carmi ce l'aveva ce l'aveva solamente il bk che aveva colpo in canna l'ho colpito mentre lui stava ben l'acqua l'ho ferito però non l'ho ucciso perché non mi sono uscito a mirarie bene sulla testa e dopo di che niente lui si è rifiugato dentro la casa mentre restava i dubbi che copriva il rumore ho fatto tutto il giro è entrato da dietro e gli ho sparato un colpo sulla goccia è morto il giocatore laggante che sta a qua da me è scomparso mi spara no l'ho evitato ce ne sta uno qua sopra a me dove sto io si ma l'hai preso spara a prescindere o ah so pure ferito mi ha colpito mi sta a cercare pippo lo sento corre sono bocca una marea dei zombie che attaccano a me che attacca a lui comunque lo piccò arma incredibile io sto quasi io adesso ne vado verso solo 10 ma no qua ci sono tipo 3 giocatori morti speriamo che ce la faccio ricongiugno a te onestamente ma c'ho fiero di come me la sono giocata io ma si va a te bene cioè quello sta va bene leccata leccata sul costato isolato sto boccato della intro aspetta shh 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 zitto mi sta a sparare non so dove sta però eccolo appiccola appiccolate tepeio butta l'ho ucciso no giura però lo so buttato mi stanno a sparare ancora no ma che ci sa succedere l'electro ma che è no c'è resta uno dietro la porta porta chiusa a chiave questo ha chiuso la porta a chiave Pippo ha chiuso le porte dell'ospedale a chiave che sta succedendo no te prego resisti no non li voglio ucciderli che poi ci sa quello che so piccolato sotto che mi sa che ancora vivo no come non penso davvero l'ho asciuttato c'è l'avevo buttato dentro un muro perché guarda questa cosa ma che è quello col gear mio mi sa che mi sa che c'ha il gear mio france è quello col saiga c'ha il gear mio qui su minchia no questo è solo un po' per mettere modesta sopra si ma il piccone è one shot guarda oh oh cazzo ci sta il gioco eh ci sta il giocatore qua da me mi hanno trovato francesco aggolo picco pronto l'ho steso l'ho steso l'ho ucciso lento spari lento spari Non era l'equipaggiamento mio Però mi è sorpiato tutto Vericolo io ho sentito spari Un colpo singolo Ma Francis sto tremando Giubbotto d'assalto non lo posso piare Che sta succedendo Pippo? Che sta succedendo? Mi è sorpiato tutto Questo c'ha la K74 C'ha la K74 C'ho pure lo visore notturno C'ho pure il visore notturno Franciè? Franciè! Che so fatto? Ma domenica tutto Esattamente che so fatto?